Succedono un sacco di cose paurose. Charmobog ha dato una festa. Non è difficile arrivare a casa sua, basta raggiungere la cima del Monte Calvo. È divertente perché è vero. Guardate, c'è anche quel buon diavolo di Ad. Non è così brutto come si dipinge. Lo adoro. E io ho anche saputo che c'è una gran festa al cimitero degli elefanti. La regola è O-P-S-O. Ognuno porta il suo osso. E ora divertiamoci con questa scherzosa tavola di Ad.